Sono veramente molto contento di poterti proporre una novità in enoteca. È il Vinjeune di Chateau d'Arlais. Ci troviamo nello Jura, una piccola regione della Francia, tra la Borgogna e la Svizzera praticamente, in cui c'è una tradizione centenaria di questo vino. Chateau d'Arlais in particolare viene considerato il castello con vigneto più antico della Francia. Infatti ci sono dei documenti che risalgono addirittura al 1070. Comunque il Vinjeune è un vino molto particolare perché viene affinato con uno stile ossidativo, ossia le botti non vengono riempite completamente, rimangono scolme, in modo da avere un'evoluzione degli aromi proprio di tipo ossidativo. Questo è del 2012 e invecchia 7 anni in botte scolme. È costituito al 100% da Savagnin, che è l'uva bianca autoctona principale dello Jura. L'altra particolarità è che è una bottiglia dal formato strano. Infatti è da 62 al posto dei classici 75 CL. Ha una ricchezza di aromi incredibile. Lo spettro olfattivo è ampissimo, con note di frutta secca, noci, mandorle, uvetta passa, ma poi anche di resina, di funghi, i sentori ossidativi che ovviamente sono sempre prepotenti. È fantastico. In bocca è ricco, avvolgente. Ha un finale veramente molto, molto persistente. È un vino molto versatile come abbinamenti. Si va dai passati di verdura, alle zuppe di funghi, formaggi di montagna stagionati, oppure anche il sushi o un'anatra all'arancia.